Iniziamo ad analizzare il lavoro tecnico del palleggiatore partendo dal lavoro delle mani, dei polsi e dell'utilizzo dei pollici. Come scritto nel libricino che trovate con il DVD, una cosa molto importante è la spinta sia nel palleggio verso 4 sia nel palleggio dietro, la spinta dei pollici aiutata dal movimento dei polsi. Esercizio semplice, palleggiatore, seduto sul pitbull, mani alte, non distese, braccia non distese, braccia semi distese in modo che dopo il palleggio può seguire il gesto del polso e quindi la palla, pollici rivolti verso la fronte, lasciamo cadere piano una palla medica nelle mani del palleggiatore che subito la spinge via, la spingi verso 4 come il movimento del palleggio. Questo lavoro qua, subito, man mano che vediamo che riesce a eseguire bene con la spinta dei pollici che va verso l'alto e le mani che vanno in avanti, quindi pollici alto, indici avanti, i gomiti seguono, gli chiediamo di fare tutto più velocemente, via veloce, bravo. Non tanto veloce la palla nella sua traiettoria, ma veloce l'uscita, il tocco della palla. Quando poi andremo a mettere palloni più leggeri gli chiederemo proprio un tocco rapidissimo. La palla deve stare nelle mani il meno possibile, la spinta parte dai pollici. Continuando con questo esercizio alterniamo ora la palla medica a una palla normale o se ce l'avete anche una palla da 500-400 grammi. Quindi lasciamo cadere la palla medica, via veloce. Adesso con la palla normale o con la palla più leggera, comunque rispetto alla palla medica, gli chiediamo di spingere la palla via come se bruciasse, proprio via, senza tenerla in mano. Sì, sì, non c'è problema. Facciamo vedere. Provando in fine delle mani, via. Questa è la palla. Sì, sempre. Pollici, non so l'altro. Tutto quello che è. Sì, è vero. Continuiamo a sviluppare questo concetto di lavorare bene con i pollici e i porsi e le braccia che seguono. Iniziamo a porre l'attenzione bene sulla velocità di uscita della palla. La velocità di uscita significa il tocco, proprio il tocco. La palla deve rimanere nelle sue mani, nelle mani dei nostri appareggiatori, il meno possibile. Questo non è consigliato farlo con la palla medica, si può fare con la palla da 400 grammi o con una palla normale come questa. Gli lasciamo cadere la palla nelle mani dall'alto, in questo modo. Appena la palla tocca le sue dita, che saranno queste tre, le dita principali che tocca, lui spingerà con i pollici verso l'alto e gli indici in avanti. Quindi appena arriva la palla la spinge via il più velocemente possibile senza tenerla in mano. Esattamente così. Se il lavoro che lui fa con i pollici, che il nostro palleggiatore fa con i pollici, è corretto, la palla uscirà con un pochino di rotazione, con backspin possiamo chiamarlo, verso lo stesso palleggiatore. Grazie a tutti.